La pesca è un'attività incredibile e sempre pronta a stupire. Si rinnova nei metodi e nelle tecnologie, ma mantiene il fascino antico dei saperi tramandati di generazione in generazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la darsena per la piccola pesca. Qui sono ormeggiate imbarcazioni della Capitaneria di Porto e le imbarcazioni che esercitano diverse attività. La varietà delle tecniche di pesca permette di adeguare l'attività alle caratteristiche delle diverse specie, ma anche ai loro cicli biologici e ai loro diversi periodi di presenza. Abbiamo la pesca di tonno e pesce spada, quella di cozze, quella a strascico, quella di vongole, ma anche la pesca di seppi e bombolini fatta con le nasse e quella di sogliole e canocchie fatta con i tremagli. C'è anche la pesca per la cattura di sgombri, palamiti e alletterati con le reti di circuizione.